Signori ci siamo, ecco il video, ci siamo finalmente, in questo video ragazzi andremo a sbloccare la città, anche detta diciamo secondo villaggio se vogliamo diciamo rientrare nel mood clash of clans Intanto, wella ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Dexter e oggi ragazzi siamo in un nuovo video di A-Day Allora ragazzi, come avrete letto dal titolo e come avrete già sentito appunto da come vi ho annunciato il video, finalmente ragazzi sbloccheremo la città Non sto più nella pelle perché veramente da tantissimo tempo che aspetto di arrivare al livello 34 e come ci arriveremo? Ci arriveremo semplicemente con questa missione qui Intanto ringrazio tutti i ragazzi nel vicinato che mi stanno aiutando con le sfide e tutto quanto, quindi grazie veramente a tutti, anzi aspettate che gli scrivo qualcosa così salutando youtube Eccoli qui ragazzi, signorini, eccoli qua ragazzi che salutano, ciao 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 a tutti ragazzi Allora, non sto più nella pelle, non vedo l'ora di fare questa cosa ragazzi perché sapete che è già da ormai qualche settimana che vi annuncio che prima o poi sarebbe arrivato questo video e che non vedevo l'ora che arrivasse Intanto qui mi continuano a fare gli ordini, ragazzi ci siamo, con questo incarico con il furgone andiamo a finalmente raggiungere il livello 34 Dove sbloccheremo tutta questa robita qui, oltre ovviamente la città, che vabbè ovviamente ci vorrà un po' di giorni per sbloccarla ma con calma ci arriveremo Ragazzi andiamo io direi a... no 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 non chiediamo aiuto, andiamo a completare l'incarico Ragazzi vi dico che io sono reduce dagli altri due video che avete visto negli scorsi due giorni qui sul canale E questo video lo sto registrando alle nove e mezza di sera quindi insomma diciamo che... ecco stavo abbastanza in hype Come clicco qui ragazzi sblocchiamo la città eh, attenzione Io andrei, 5, 4, 3, 2, 1 Livello 34 signori, livello 34 signori Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta Eccola qui Il sindaco è rimasto molto colpito dal tuo lavoro nella fattoria e vorrebbe mostrarti qualcosa Ripara la banchina e vediamo dove ci porteranno quei binari, nella città 39.000 ragazzi, 39.000 monete Io ne ho 84.000 sapete che nel video precedente abbiamo sbloccato o meglio diciamo partiti Siamo partiti con i lavori per sbloccare il retificio E quindi adesso ragazzi sto a 84.000 monete che sono comunque molte Ragazzi iniziamo, iniziamo Ripara la banchina e recati nella tua città per ricostruirla Nuove avventure ti aspettano 3, 2, 1 Let's go Due giorni e 23 ore ragazzi per sbloccare la città Tra l'altro è comparsa una nuova iconcina che c'è qui I potenziamenti si sbloccano a livello 35 Già alcuni di voi mi avevano scritto nei commenti che effettivamente sarebbero arrivati questi potenziamenti Non so di preciso che cosa sono Però da quello che ho capito che mi avete scritto nei commenti Sono dei potenziamenti che vi permettono di attivare Attivare Tom, attivare gli aiutanti Ad un prezzo scontato ogni tot O addirittura molto spesso Prenderli addirittura gratuitamente per ovviamente un tot di tempo Allora Ci siamo Livello 34 Ovviamente Tanta tanta roba La città adesso Con calma ragazzi ci arriveremo a sbloccarla Io penso che ci vorrà adesso un paio di video Prima che vediate effettivamente la città Quindi non so se questo video lo chiamerò Sblocco la città Giusto per fare un po' di clickbait Ma siccome ragazzi Non mi piace troppo fare clickbait Cioè preferisco fare effettivamente quello che c'è nel video Perché non mi piace fare video fake Quindi insomma ragazzi Penso che lo chiamerò questo video Livello 34 Oppure inizio i preparativi per la città Qualcosa del genere ragazzi Mi inventerò un titolo figo da mettere Fatto sta che comunque Qua andiamo a vendere tutto il grano Che ne abbiamo veramente a profusione Perché ho trovato un sacco di persone che me lo vendevano a 10 Quindi tanta roba Qui andiamo a piantare le carote Qui le canne da zucchero Figo vedere effettivamente un terzo tasto qui Perché è ok Allora Abbiamo questi tre incarichi da andare a completare Ma questo lo faccio dopo con calma Ragazzi io sono curioso Oh mio dio Allora abbiamo un cavallo effettivamente in più Penso che in un prossimo video Andremo anche a sbloccare i cavalli Ragazzi quindi tranquilli E abbiamo Ho queste strade qui Che sono veramente Ma veramente fighe Che probabilmente Andrò ad aggiungere Non penso che Ve lo farò vedere in video Penso che lo farò A FK Ora ci sono altre 28 Ricompense Ma non credo che al momento Si possano vedere Credo Perché ragazzi Devo appunto sbloccare la città Quindi madonna Dovrò restare per due giorni Con sto tasto Fastidiosissimo Con scritto 28 Probabilmente E raga purtroppo Lo dobbiamo subire Pazienza Pazienza Non è un problema Io direi di andarci a prendere Questa tortina Adesso con calma Ragazzi faremo tutto quanto Qui andiamo a completare Questa missioncina Livello 35 Vediamo al volo Che cosa sblocchiamo Oltre i potenziamenti Sblocchiamo altri tre campi Una nuova Macchina Attenzione Marmellatiera Spero che si inventino Loro i nomi E che non siano effettivamente I nomi dei macchinari Anche nella vita reale Così fatemelo sapere Nei commenti Io non ne ho idea Perché se sono così Veramente Oh mio dio È una roba schifosa Patate Quindi sblocchiamo Oltre le fragole Anche le patate Cucciolo di letriver Ragazzi Questo se non lo prendo Sono veramente Una persona malvagia Cuccia per cagnolini Torta di fragole Patata al forno Ripiena Marmellata di miele No di miele E alta lena dorata Che costerà probabilmente 50k Dico io Comunque ragazzi Se non mi prendo il cucciolo Direttiver Sono veramente Un pezzo di merda Perché è troppo bello È troppo Troppo cute Veramente Bellissimo Andiamo qui a fare Altri popcorn E ragazzi Mi sono tenuto qua Da parte Due pesche da fare Assieme a voi Abbiamo Una Pes Una Un amo Viola Quindi tanta roba Cerchiamo di trovare Un pesciozzo buono Questo Mi sembrava Pesciozzo Abbastanza normale Vediamo se questo È un pochino più Raro Diciamo No è sempre Vabbè dai qui Ho capito che Bene o male dovrebbero essere Tutti di questa grandezza Qui Quindi peschiamo Quindi peschiamo Tac Ok Centrarchi Immaculato 4 kg di pesce Mica male Qui andiamo a Prenderci altri pesciazzi Vediamo un attimo Questo come sta E anche lui Fa abbastanza schifo Mi sto facendo Un Un amo Dorato Probabilmente ve lo farò vedere In un prossimo No forse lo farò da solo Non lo so Adesso vediamo Penso che lo farò da solo Comunque ne ho altri da poter fare Quindi nessun problema Questo pesce qua Ok ce l'avevo Sempre bronzi Ragazzi Non riesco mai a fare un Cioè ne ho fatti due Finora ma Ci vuole del tempo Insomma Allora Un'ora e diciannove Per fare il retificio Due giorni Per fare la città No Tre giorni addirittura Ragazzi scusate Mi sono confuso Ci vorrà un po' Ci vorrà un po' ragazzi Adesso è tutto Tutta attesa Effettivamente voi direte Ma Hai 128 gemme Gemma qualcosa Anche no ragazzi Perché Come già vi ho detto In alcuni video E i dei E' proprio Questo è il bello E' come Clash of Clans Ragazzi Voi magari Cioè Io vedo molti youtuber Ragazzi Che hanno tantissime gemme Ma non le utilizzano Perché E' proprio quello Il bello Di Clash of Clans Attendere Cioè ovviamente Dopo Molte volte Su Clash of Clans L'attesa diventa Anche troppa Ragazzi E quindi In quel caso Capisco le persone Che dopo un totte di tempo Si scoccino E vogliono Shoppare Però D'altra parte Questo i dei L'attesa Non è troppo lunga Ragazzi Si parla di qualche giorno Quindi voglio dire E' ancora Fattibile Almeno al mio livello Poi penso che Comunque Sbloccando altri edifici Successivamente Ci siano degli edifici Che effettivamente Ci voglia più tempo Per sbloccare Non ne sono sicuro Ovviamente Perché effettivamente Cioè La città Credo che sia la cosa Forse L'edificio più costoso Non lo so Sto dicendo io Ragazzi Parlo da Persona che è Attualmente A livello 34 Quindi E' ancora Abbastanza Inesperta Qui intanto Altra gente Che saluta Il vicinato Ciao a tutti Ragazzi Mi raccomando Se siete Abbastanza attivi Rischiate anche Che magari Siate Ovviamente Parlo di quelli Che sono Nel vicinato Se siete Abbastanza attivi Può essere anche Che io Mentre stia registrando Vi dica Salutate youtube Che sto registrando Un video Come è successo In questo video Non lo faccio sempre Però quasi E voi Se avete la fortuna Potete anche salutarmi Se non vi capita Ragazzi Avrete più fortuna La volta successiva Comunque non è un problema Qui ci andiamo a prendere questo Perché mi serve Per la barca E la madonna Quanti ne vende Mi prendo anche questi Non è male E direi Basta Perché poi Per il resto Ha giusto Ha giusto Ho anche sbloccato Il ferro Quindi ora posso fare Anche il ferro Tanta roba E qui Andiamo a vendere Questo Che mi serve Qui Non giocherò di canna Chiediamo una mano L'altro Me lo faccio io E Basta ragazzi Quindi bene o male Abbiamo fatto Tutto quanto Adesso appunto Ci vorrà un pochino Di tempo Però ragazzi Con calma Sblocchiamo anche la città E sicuramente Quando la sbloccherò Non mancherà Il video sul canale Quindi state tranquilli Che il video sul canale Ci sarà sicuramente Ragazzi Io direi di concludere Quel video Perché abbiamo fatto Pressoché tutto Io spero che il video Vi sia piaciuto Come al solito Se il video vi è piaciuto Asciate un commento Mi piace Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Non ne vorrete nessun video Seguitemi se solito Trovate tutti i link In descrizione Ragazzi Io vi dico Che sto guardando Attualmente il canale Siamo a 915 iscritti Ora io non vorrei Azzardare a dire Ma forse Quando vedrete questo video Saremo ai 1000 iscritti Ragazzi Sono senza parole Comunque ci saremo vicini Grazie Grazie veramente di cuore Non vi ringrazierò mai Alla stanza Per tutto il supporto Che mi state dando Ultimamente Grazie di cuore a tutti Bella ragazzi Grazie a tutti i可愛i Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie.